Procede spedito il percorso che porterà presto all'apertura del nuovo centro natatorio. Questa mattina insieme all'amministrazione comunale e al nuovo gestore è stato firmato il protocollo d'intesa per la consegna graduale degli impianti perché la nostra struttura è terminata, i collaudi che sono stati effettuati fino a questo momento hanno dato tutti esito positivo, la struttura è stata certificata e nei prossimi giorni verranno consegnati gli ulteriori certificati che consentiranno poi di ottenere l'agibilità da parte dei vigili del fuoco e quindi procederemo successivamente alla consegna della struttura. È un passo importante quello di stamattina che la fondazione ha sottoscritto insieme all'amministrazione comunale e al nuovo gestore che consente di consegnare appunto gli impianti che sono già in funzione perché le vasche sono state riempite, gli impianti funzionano e quindi procediamo a grandi passi per consegnare questa struttura alla comunità che da tanto tempo l'aspetta.